La Napoli Basket si prepara a cambiare casa. Al palabarbuto ancora per un paio di stagioni, poi una nuova struttura di respiro internazionale per ospitare la palla a canestro e ogni altro evento sportivo indoor. Assieme all'azienda Italstage, la società partenopea ha ufficialmente protocollato presso il comune di Napoli un project financing per la realizzazione, entro il 2026, di un palazzetto dello sport destinato ad accogliere anche spettacoli, concerti ed eventi culturali. L'investimento da 54 milioni di euro dovrebbe assicurare una capienza di circa 10.000 spettatori per i match della Gevi, mentre per gli altri eventi legati all'intrattenimento si arriverebbe intorno ai 14.000 posti disponibili. L'area individuata è quella ormai dismessa dell'ex mercato ortofrutticolo comunale al ridosso del centro direzionale. È prevista anche la creazione di un parco urbano attrezzato di 44.000 metri quadrati. Un'opportunità per candidare la città ai grandi eventi sportivi, non solo di basket, ha dichiarato l'azionista della Gevi Napoli Vito Grassi. Soddisfatto anche il sindaco Gaetano Manfredi, dopo la vittoria della Coppa Italia dovevamo rispondere alla richiesta di cittadini e tifosi. Quando il progetto sarà definito nei dettagli il comune procederà nella rigenerazione dell'intera area.